Sono stati inaugurati in Toscana rispettivamente nel quartiere 3 di Firenze a Empoli i primi due uffici di prossimità del Tribunale. Un progetto sperimentale che punta ad avvicinare i servizi della giustizia al cittadino cominciando da quelli della volontaria giurisdizione. D'ora in poi sarà possibile richiedere documenti, svolgere pratiche ed esporre problematiche agli avvocati nei due nuovi uffici senza doversi recare fino al Palazzo di Giustizia. E questo è un progetto molto ambizioso, noi abbiamo come obiettivo di aprirne mille in tutta Italia entro il 2019, quindi capirete che creiamo una rete di giustizia veramente molto capillare. Prima del taglio del nastro alla presenza del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato firmato un protocollo fra i sindaci Dario Nardella e Brenda Barnini, l'assessore regionale Vittorio Bugli, la presidente della Corte di Appello di Firenze Margherita Cassano, quella del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo e il presidente dell'Ordine degli Avvocati Sergio Paparo. L'idea è quella di fare questi uffici di prossimità in più comuni possibili, noi abbiamo fatto un bando, hanno risposto in 15 comuni. I comuni, il comune di Firenze, il comune di Empo e la città metropolitana insieme all'università avevano già lavorato su questo tema prima, oggi siamo a inaugurare i primi due ma l'auspicio è che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi si possano aprire almeno tutti e 15 gli uffici che si sono fatti avanti, i cui sindaci si sono fatti avanti. Gli altri uffici di prossimità saranno aperti ad Abbadia San Salvatore, Capandori, Montepulciano, Montevarchi, Piombino, Poggi Bonsi, Pontedera, Pontremoli, San Giovanni Valdarno, San Mignato, presso l'Unione dei Comuni Montani del Casentino e quella della Valtiberina e a Volterra.